... Incidente sul lavoro nel pomeriggio di giovedì 18 novembre intorno alle 16 alla Rossagno 2T situata in frazione Chiagnotti a Forno Canavese. Un operaio è rimasto con la mano incastrata in un macchinario. Sul posto sono prontamente intervenuti la Croce Bianca del Canavese, la Croce Rossa di Castellamonte, i Vigili del Fuoco di Ivrea e i Carabinieri di Rivara. L'uomo, cosciente, è stato liberato dal macchinario e dopo le prime cure è stato trasportato in ambulanza all'ospedale CTO. Nel disoccorso non ha potuto alzarsi a causa della nebbia. L'accaduto è al vaglio dei Carabinieri e dello Spresal dell'Aso 84. L'uomo, cosciente, è stato liberato dal macchinario.